Verrà ampliato il pronto soccorso di emergenza estivo a Vieste, non soltanto con un'altra autoambulanza, ma anche con un elisocorso che funzionerà anche durante la notte. Lo ha annunciato l'assessore al bilancio regionale pugliese, Rappaele Piemontese, dopo un incontro che ha avuto con i responsabili della cittadina greganica, con la ASL Appoggia e con la sezione strategie del governo. Un mese fa, in un altro incontro, dice Piemontese, ci imponiamo ad aggiungere una seconda ambulanza medicalizzata. Tutto questo adesso è possibile, sarà in funzione nel corso dei prossimi giorni. Un telegramma con 100 lettere ha confermato il tutto. Anche chi antepose la propaganda politica ha i bisogni reali della persona. Mimma Siena, Speciale News.